Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology, manca praticamente meno di un minuto, mancano 30 secondi al termine di Inter-Ludo Goretz la seconda fase di questo turno di Europa League, molto importante, il turno, ma dico la competizione generale 2-1 questa gara, 4-1 il conteggio generale, insomma un Inter che porta a casa questa importantissima qualificazione domani ci saranno i sorteggi e insomma sono molto curioso di capire, curioso e anche speranzoso perché spero non esca fuori nulla di troppo duro anche perché mi sembra che erano 9 anni che l'Inter non si qualificava ai quarti di una competizione europea in generale quindi questo è molto importante, così ho letto, fosse una cazzata chiedo scusa, ho letto questo di sfuggita prima proprio nella descrizione di vuoto, sto guardando lo streaming perché è la divisione occupata e beh, bello ecco che in tutto questo casino che è successo, è terminata adesso la partita intanto, 2-1 almeno le partite, questa e quella con la Juve, abbiano deciso in qualche modo di trasmetterle su TV8 perché almeno ci danno questa piccola soddisfazione, la danno a noi che non abbiamo la possibilità magari di vederle sempre su Sky io in particolare ogni tanto posso, ogni tanto no, ma comunque è una bella cosa, diciamo che è una bella cosa la brutta cosa ragazzi qual è? Che non ci sono tifosi, e senza tifosi non è possibile, non è assolutamente possibile questa gara magari si è notato un po' meno perché era una gara un po' più normale, importantissima, però eravamo già in vantaggio di due reti a zero non era comunque un big match e diciamo che si è sentita un po' la loro mancanza immagino ragazzi cosa possa accadere domenica contro la Juve perché è veramente una gara senza tifosi come quella, che poi non è un big match, è una gara a sé una gara sia per noi sia per loro, molto particolare, particolarissima, assolutamente speciale e anche tutte le partite importanti che verranno, vedremo cosa accadrà, però credo che per le prossime sarà così meglio questo di ovviamente non giocare come è successo con la Sabdoria e chissà quando la recupereremo, non ho capito se l'abbiano messa il 20 maggio o quando fatto sta che per ora abbiamo perso comunque dei punti, che se a questo punto dovessero essere recuperati a fine del campionato sicuramente questa cosa potrà nuocere a noi ma insomma, intanto pensiamo all'Europa League, a questa gara poi ovviamente prepariamoci alla Juve senza tifosi e sarà veramente dura ragazzi, ci penso perché cacchio Inter-Juve senza tifosi ma anche per loro, in caso per noi, in generale, la Juve-Inter senza tifosi è una cosa proprio difficile anche da immaginare Inter-Lutogorres 2-1, i gol di Cristiano Pirà che sono contentissimo e Romelu Lukaku un po' fortunato contentissimo per Cristiano perché ha giocato una buona partita e meritava il gol perché è un ragazzo che si impegna sempre che erano anni che sognava di tornare da dove era partito, ovvero dall'Inter secondo me spesso anche ingiustamente criticato è un fenomeno, spesso non gioca bene però, però, sono molto contento per lui perché vedo sempre un grande impegno io sono dalla parte degli ultimi, quindi sono sempre dalla parte anche di chi viene criticato e si impegna quindi meriterebbe di più anche dei propri tifosi oggi forse sono mancate molte standing ovation che ci sarebbero potute essere per esempio Danilo D'Ambrosio che si è dimostrato ancora una volta un grande professionista di fatti i telecronisti di TV8 hanno detto glielo facciamo noi l'applauso non essendoci tifosi è assolutamente d'accordo perché non ha giocato un partitone però ha giocato un'ottima partita nel senso che ha giocato una partita composta ha la Danilo D'Ambrosio, si è fatto trovare sempre pronto ed è una sicurezza, insomma Danilo è la sicurezza di un giocatore che comunque darà sempre il massimo a di là poi del risultato finale è un buonissimo calciatore, un grandissimo professionista Padelli oggi meno impegnato, ha subito un gol ovviamente, ragazzi, Samir deve tornare al più presto spero ci possa essere con la Juve perché altrimenti sarebbe veramente un disastro ma non sono assolutamente informato e quindi può essere che non ci sia questo mi preoccupa comunque, sempre grande fiducia per Danilo speriamo bene per il rientro del nostro capitano Samir a proposito di capitani, un grande trascinatore anche oggi Eranocchi, oggi è un po' più in difficoltà del solido ma insomma, una buona partita per lui grandissimo Diego Godin forse uno dei migliori in campo il migliore sicuramente della fase difensiva mi è piaciuto ancora una volta Vittor Mosis abbiamo detto bene Biraghi con anche un bel gol un po' fortunato, una deviazione, ma un bel gol poi, buona partita per Borca Valero per Barella poi è entrato Brozovic loro sono sempre un po' delle certezze grande, Christian Eriksen uno dei migliori anche lui Lukaku che è andato in gol ha preso anche un palo il palo si, un palo attraversa l'ha presa anche Alexis Sanchez che io direi migliore in campo di oggi definirei migliore in campo meritava il gol l'ha sfiorato, grandissima partita di sacrificio l'impegno di lotta e anche a livello qualitativo ha fatto delle grandissime giocate Romelu ha fatto una giocata alla FIFA in una circostanza ma sono stati veramente tutti tutti molto bravi oggi in particolare però Sanchez perché perché mi piaceva tanto e credo meritasse assolutamente il gol ripeto, per la qualità ma anche per l'impegno proprio che non è sempre scontato soprattutto per chi è già forte di suo Sanchez lo è viene da anni difficili e sta dimostrando soprattutto dopo l'infortunio di voler dare il massimo di voler farsi trovare sempre pronto dal mister Antonio Conte che oggi ha messo in campo anche esposito che ci ha provato ma ha avuto anche poco tempo fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Inter-Lutogorez 2-1 4-1 totale oggi Biraghi e Lukaku dopo il momentaneo vantaggio degli ospiti qualificati domani vediamo i sorteggi e poi pensiamo alla Juve senza tifosi mannaggia la miseria ciao a tutti sempre e comunque forza Inter ciao ragazzi